Eccomi qua, sono Filippo Borghi, faccio l'attore, ho diversi interessi come psicologia, filosofia, mi piace scrivere, scrivo racconti, testi teatrali e vado a cavallo, ho iniziato da poco, era una cosa che volevo fare da un sacco di tempo e ho iniziato, un tempo giocavo a basket, cioè un tempo vuol dire fino a 12 anni fa abbastanza seriamente, ero bravino ma poi ho smesso perché sì, adesso suono il pianoforte, vado a cavallo, faccio altre cose, e niente, vi mostro il mio profilo destro, il mio profilo sinistro, queste sono le mie mani e questo sono io, grazie.